Musica Sono molto orgoglioso e felice di fare parte della famiglia di Live Nation Sono molto soddisfatto di tutto quello che è stato il mio percorso invernale perché ho lavorato con una struttura che mi ha permesso di fare tutto ciò Come diceva prima Corrado abbiamo avuto il desiderio di ampliare lo spettacolo Agli High Days con degli artisti internazionali perché Live Nation ha reputato internazionale il mio spettacolo Abbiamo preso, mi do questa curiosità, la scelta di fare due date direttamente Per il motivo che ci piaceva avere uno spazio circoscritto per poter esprimere al meglio il mio spettacolo a livello di grafiche e scenografie che se no sarebbe stato un po' più dispersivo Il 29 giugno avremo come ospite nazionale a questo punto bisogna specificare Kidi Ugi mentre il 30 giugno avremo come ospite nazionale Artify ovviamente accompagnati dall'apertura di DJ e di Night Skin Poi c'è ragazzi un applauso a questi ragazzi che non ci sono ma sono lento Io sono certo che ho una grande responsabilità sulle mie spalle ma allo stesso tempo sono certo che riuscirò a fare bene perché lavoro con dei professionisti e ho un sacco di passione in quello che faccio Sono orgoglioso di tutto ciò può essere anche un'arma a doppio taglio per quella che è stata un minimo la critica di avere degli artisti internazionali all'apertura ma loro veramente sono tanto soddisfatti come i loro manager e secondo me gli daremo una grande accoglienza quindi li faremo sentire a casa e secondo me stanno davvero tanto soddisfatti Che altro dire? Io voglio di spaccare tutto quanto mi sto preparando, quindi mi sono a dieta, ora inizio alle larmi le lezioni di canto, non fumo quindi davvero venite perché darò tutto me stesso in buone parole Concludo, stramatizzando, dicendo che Corrado sta anche sentendo gli addetti tecnici del cielo e non dovrebbe piovere per il 29 e il 30 quindi la Ignition ha tutto sotto controllo, non temete e non iscriviti al canale